Benvenuti cari telespettatori di Klagemauer TV. Oggi la testimonianza di un'ostetrica informazione. Cito. Nell'arco di solo due mesi ebbi due colloqui con due neomamme del reparto di puerperio, le quali entrambe furono o vaccinate o ricevettero dei medicinali durante la gravidanza, i quali avrebbero potuto provocare al nascituro handicap o altri danni. I loro ginecologi erano pronti a discutere l'aborto. Da notare che molti medici che fanno vaccinazioni non ancora conoscono i rischi delle vaccinazioni come invece questi ginecologi che a causa di questi consigliano l'aborto. Dunque le due donne hanno optato a favore della gravidanza e contro l'aborto ed entrambe hanno messo al mondo dei figli in ottima salute con nessun traccia di malformazioni o simili. Ma quanti bambini vengono abortiti ogni giorno a causa di una pura congettura? Chi cerca continuamente di venderci la pratica dell'aborto come la cosa la più normale del mondo? Vi lascio con una citazione di Albert Einstein Per me ogni uccisione di persone è un omicidio infame anche se è lo Stato a farlo in grande. Grazie per la cortese attenzione e da presto!